Sanremo Cristiana, che aveva attaccato il leader leghista Adesso, il parrucco che guida la chiesa di San Martino Valle Caudina, centro-irpino al confine Col Sanglio, torna a sorprendere con un post velenoso sul vincitore di Sanremo, nel solco di quanto già affermato dal vice-premier leghista Sarò un sovranista, un fascista, un nazionalista, uno squadrista e tutti gli ista del mondo, ma la canzone di Mamoud davvero non si può sentire, è semplicemente vergognosa, accusa il parrucco che si trova in vacanza in Australia Parole al vetriolo E Don Salvatore non usa certo frasi di circostanza, ma si è realmente fascisti e razzisti scrive ancora il parrucco su Facebook dicendo che non può vincere il festival della canzone italiana una schifezza del genere e che non si può dire a tutto il mondo che la canzone italiana è ridotta a quello schifo E ancora, purtroppo hanno avuto una sola pecca non erano musulmani non erano immigrati non erano pieni di tatuaggi non erano drogati, erano solo troppo italiani, e con una canzone troppo italiana per vincere il festival della canzone italiana Don Salvatore non è stato il sole a prendersela con Mamoud. Anche Maria Giovanna Maglie aveva sparato a zero sul verdetto del festival di Sanremo, un vincitore molto annunciato Punto poi riprende. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c'è, c'è anche il Ramadan e il Mergile, e il meticciato è assicurato La canzone importa poco, avete guardato le facce della giuria d'onore, ha aggiunto la giornalista che secondo indiscrezioni è candidata alla conduzione di una striscia di approfondimento giornalistico su Rai 1, dopo il Tg1 delle 20 30. Per rispondere alle critiche, arrivate ai primi due post, Maglie ha vittato poi Meticciato, combinazione di elementi linguistici o culturali di diversa provenienza o natura In questo caso privilegiato sulla qualità di una canzone. Per il resto, il razzismo è nella testa di chi legge e vorrebbe impedire il pensiero critico Dopo gli attacchi al capo dello Stato l'ex giornalista Maria Giovanna Maglie, che la Lega di Salvini e PoA vorrebbe imporre agli italiani nello spazio quotidiano che fu di Enzo Biagi, adesso su Twitter se la prende anche con il vincitore di Sanremo Mamud utilizzando espressioni offensive e razziste come Meticciato Davvero l'ansia di occupare poltrone della nuova compagine di governo non trova nulla di meglio. Davvero lei avrà una striscia quotidiana Il servizio pubblico non può cadere così in basso, facciamo appello al consiglio di amministrazione della Rai perché eviti questa pagina vergognosa al nostro paese Lo dichiara Davide Faraone, capogruppo PD in vigilanza Rai